San Paolo e la conversione San Paolo e la conversione Anzi no, torniamo a San Geromo, come ha fatto a fare questo grande lavoro? Perché c'è voluto del tempo, c'è voluto del materiale, c'è voluto un luogo per fare questa cosa che alla fine sta a Betlemme, nella Palestina, lì nelle grotte di Betlemme dove Gesù è nato, lui ha fatto nascere quello che è la Bibbia in lingua latina Per fare tutto questo c'è voluto una grande benefattrice, c'è qualcuno che fornisse a Girolamo i mezzi per poter ricercare i testi, studiarli, tradurli eccetera Questa benefattrice è Santa Paola che insieme a San Girolamo ha creato questo monastero femminile dove la vita consacrata femminile potesse essere curata e potesse crescere Una donna probabilmente molto intraprendente per l'epoca, capace di trasferirsi, di aprire questo convento femminile di stare accanto a un personaggio molto rude, molto forte, da un carattere molto duro come San Girolamo Ecco, a Santa Paola ci affidiamo perché anche noi abbiamo bisogno di qualcuno che a volte si prenda cura di noi anche dal punto di vista molto concreto, dei bisogni anche noi abbiamo Allora a Santa Paola chiediamo questa grazia, di avere sempre con noi qualcuno che veda quello di cui abbiamo bisogno e sia capace di donarsi anche per noi e per tutti quelli che gli sono a fianco Buona giornata! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!